Erta Vernello contro Escile si chiude la prima fase nella Seven Cup, fase a Gironi, tutto pronto per l'inizio della fase finale, una fase finale alla quale parteciperà, ci riferiamo ovviamente a questa partita, soltanto l'Ecile, qualificato come primo della classe nel raggruppamento numero 7 e quindi direttamente agli ottavi di finale. State vedendo in serie l'1-0 di Poddie, il 2-0 di Corona, il 3-0 ancora di Poddie e il 4-0 di Ricci, qui anche la cinquina mesasegno da Corona. Andiamo al minuto numero 17, minuto nel quale la formazione di Matteo Carta trova il sesto gol. A realizzarlo è Niccolò Poddie al termine di una splendida azione personale. Andiamo avanti, portiamo avanti gli orologi di altri due minuti, l'Ecile trova ancora il gol. Di fermarsi la formazione di Matteo Carta sembra proprio non averne nessuna intenzione. A realizzare il gol da pochi passi è Luca Onano, 7-0. Questo è anche il punteggio col quale le due squadre vengono mandate a riposo dal direttore di gara designato per il match, che è il signor Ivan Cardu. Andiamo adesso a vedere quello che accade nel secondo tempo. Dopo un simile parziale si potrebbe pensare a un Escile che frena la propria corsa. Si pensa però male. La formazione azzurra trova subito altri due gol. A segno, tanto per cambiare, Poddie e Corona. Alla mezz'ora trova la rete anche Matteo Carta. Al 32esimo Matteo Carta nei panni di Assistman. L'autore del gol è Niccolò Poddie. Alla 33esimo Patron Matteo Carta concede il bis con una sassata, vera e propria sassata, dalla distanza. Alla 34esimo l'Ecile va ancora a segno, 13-0. Questa volta però la sfortuna colpisce in pieno volto l'erta Vernello. Dal momento che l'autore del gol, o meglio autogol, è Cogozzi. Un tesserato della formazione di casa. Al 35esimo e al 36esimo ancora a segno Nicola Corona. Il punteggio è adesso di 15-0 per gli ospiti. Al 38esimo trova finalmente il gol, quello della bandiera, l'erta Vernello. A realizzarlo è Lai. Tra l'altro un gol anche di pregevole fattura. Al minuto numero 39 Nicola Corona per il 16-1 degli Escile e al minuto numero 46 Niccolò Poddie per il 17-1 della compagine ospite. Finisce così l'avventura dell'erta Vernello nella 7 Cup. Gli Escile si presentano alla fase finale come meglio non avrebbero potuto. E chissà che la compagine di Matteo Carta, come già fatto nella week, non possa riservare una clamorosa sorpresa.